Bene amici di Telefono.net, LG L7 seconda versione che sta girando questo video a 720 x 480 pixel. Qui il pan veloce, ora mi fermo un attimo, provo a fare uno zoom, questo lo zoom massimo, ovviamente digitale. Contro sole, un bellissimo tramonto stasera qua a Milano e adesso torniamo a luci più normali. Ripeto, video che sto girando, 720 x 480 pixel da LG L7 seconda serie.